Halloween Don't Salta Lunedì 31 ottobre, Torre Santa Susanna Halloween Don't Salta Contrada Santa Maria, strada provinciale per San Cancratio Halloween Don't Salta Start, ora è 23 Halloween Don't Salta Halloween Don't Salta Franchinele, Papaleo Special Gerson, Terran Fabio Music by DJ Morello Faiasso Halloween Don't Salta 2011 Corre Santa Susanna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.